Oggi vi presento un filetto di branzino al profumo di erbette servito su un tortino di patate viola con pomodori secchi e basilico e asparagi verdi e bianchi gratinati. Questo piatto è un'eccellente alternativa per chi non vuole mangiare carne. Difficilmente non incontriamo l'approvazione dei palati più esigenti utilizzando una carne pregiata come quella del branzino. L'unione dei sapori delicati e la meticolosa preparazione degli ingredienti ha reso questo piatto veramente vincente. Grazie per la visione!